Sono 150 le pizze sfornate a favore di altrettanti cittadini di Tiena ai quali è stato offerto ben più di uno dei più conosciuti piatti della cucina italiana a una bella serata in condivisione in compagnia con un servizio ai tavoli d'eccezione composto da sindaco amministratori locali in vesti di camerieri al lavoro insieme ad altri volontari tienesi che hanno accettato ai primi di agosto l'invito a mettersi a disposizione per una serata in allegria anche grazie all'animazione portata in sala dai simpatici membri di Dr. Clown Italia Dr. Clown Chittri Chittri India che hanno curato l'intrattenimento l'iniziativa era nata da una riflessione ben precisa si è concretizzata ai primi di agosto a Tiene ospitata dalla pizzeria La Rotonda con agosto le città si spopolano chi può migra verso le spiagge montagne o mete turistiche non tutti hanno questa possibilità e molti soprattutto anziani o fasce deboli restano a casa dove le settimane trascorrono all'insegna della solitudine per questo l'amministrazione ha pensato ad una serata estiva per offrire ore di serenità